Ciao a tutti ragazzi, è ancora genuto 9, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video e ho un bel ventale di bustine qui in mano ragazzi, 5 bustine di calciatori Panning 2013-2014, una nuova apertura comincio subito, e speriamo di trovare delle cose come le abbiamo trovate nelle scorse aperture, vediamo un po' uh, già uno scudetto ragazzi, lo dico, già ve lo anticipo uh, scudetto della serie B anche, quindi doppio scudetto, ok ma cominciamo subito noi con questa prima delle 5 bustine abbiamo Silgardi, oh, Mare Camsic Taddei, mamma mia, com'è cambiato abbiamo una parte del Livorno abbiamo Che Lava e abbiamo uh, che belli, Avellino e Bari, bellissimi Ruvidini, bellissimi veramente, molta fortuna fortuna sta proseguendo, ma vediamo se prosegue e continua anche qui non sempre la prima carta, quella che si troverebbe per prima è quella più rara uh, un altro scudetto, questa volta è da solo quindi lo tengo sempre in fondo abbiamo Stendardo Cannavaro Palladino una parte della Lazio Alan uh, scudetto della AS Roma ragazzi scudetto della Roma, troppa fortuna adesso non capiterà più niente comunque ragazzi affrettatemi se volete dirmi di eh, se volete qualcosa, perché prima che lo incolli sull'album, insomma quindi dovete dirmelo abbastanza in fretta, perché sennò io sono uno che diciamo non non gli dispiace colare le figurine sull'album, quindi lo faccio anche per la mia collezione iscrivetevi ragazzi, dovete iscrivervi per appunto vedere i prossimi video e rimanere aggiornati ok? non ho fatto il trick, quindi la rara è questa ragazzi primavera della squadra eh, Chioverona ok? vi dovete iscrivervi per vedere i prossimi video per essere aggiornati, eccetera, eccetera ok? iscrivetevi ragazzi e mettete un bel like se il video vi sta piacendo ma non è adesso che bisogna dirlo, bisogna dirlo alla fine, quindi un attimo Alvaro Gonzalez Mattia Silvestre Paletta eh, due squadre femminili il Cadui perfetto una buona primavera, comunque vecchievo insomma, va bene ogni tanto fare un po' di stop dagli scudetti che non riprendo adesso perché non c'è lo scudetto allora, vediamo un po' Perez uh, De Jong, grande Benassia una parte dell'Inter Barreto e una parte della Roma bene bene ci rimane ora l'ultima bustina ragazzi vediamo come andrà quest'ultima se ci porterà fortuna ma già le prime due sono state spledite scudetto per la Roma tazzesca va bene neanche qui c'è uno scudetto ma vediamo qual ci sarà chi c'è lo del grosso una parte del chievo avviamo Pop Jankovic tra il giocatore della Ternano infine una bellissima parte della squadra udinese perfetto ragazzi un'altra bellissima apertura come quelle scorse quindi se vi è piaciuto questa apertura mi raccomando mettete mi piace cliccate qui sotto mi piace e magari resta un commento o non so se magari avete messo mi piace volete dire che l'avete messo oppure dei consigli così e appunto se vi interessano delle carte e poi iscrivetevi per sapere appunto quanto esce un nuovo video eccetera eccetera quindi ciao ragazzi da Corso il giorno 9 e ci vediamo ciao ciao ciao